Un applauso fragoroso rivolto ai militi, in testa è il tenente Chiara Baione, seguito da quattro file con tre cavalli per fila, parte dei carabinieri a cavallo. Come sempre è bellissimo vedere le ordini che sta dando il tenente di schierarsi per salutare le autorità presenti nel palazzo pubblico. Lo stesso saluto che l'ha fatto ora qui alla mossa rivolto al palco dei giudici dove c'è il sindaco dopo data della pesta capitale, per cui è un gesto di alta educazione, di alta riconoscenza l'ospitalità che Siena offre ai carabinieri nel ringraziarli della loro presenza, dello spettacolo che, anche se sono pochi minuti, però che riescono a dare di grande emozione. la tenente Baione che sta arrivando, darà l'ordine poi di schierarsi. Vedete come i cavalli che si mettono tutti in pila. e ora mi prende il percorso sull'anello di Tufo e che ora mi presenta l'ospitalità con la sciabola appoggiata sul fianco vediamo dei cavalli splendidi finimenti di altissima qualità dei uniformi uniformi da parata per cui significa è stato tutto curato nella massima attenzione eccola arrivati alla altezza del San Martino poi logicamente quando saranno a metà del Palazzo Pubblico ci sarà un cambio di passo e poi la carica dall'altezza della curva del Casato all'uscita dal San Martino uno spettacolo sempre di grande emozione di grande... ecco galoppo galoppo sono partiti il tenente è in prima posizione grande galoppo di tutto il drappello con in testa il comandante e l'uscita uscita da San Martino bellissimo uno spettacolo veramente bello bello e ringraziamo l'arma che due volte all'anno ci dà questa bellissima emozione vedo che i Fantini stanno rientrando hanno finito il loro percorso da turisti e ora rientrano all'entrone e tra poco ci sarà l'ordine di montare a Cavallo più in grado